Siamo nella stazione perroviaria di Via Olimpia del sistema SFMR del Regione Veneto e delle perrovie dello Stato. I lavori iniziati con la posa della prima pietra in settembre del 2009 sono rimasti fermi, bloccati, nonostante le promesse di tutti e nonostante le spese molto molto importanti che sono state fatte per fare questa colata di cemento. Il degrado e l'assoluto abbandono è evidente. Purtroppo sono coinvolti il Comune, la Regione, Rete Ferrovie e tutti gli scandali connessi e relativi. Purtroppo a fronte anche delle dichiarazioni delle varie amministrazioni che si sono succedute negli anni e ultima, quella dell'attuale Sindaco che ha asserito con estrema sicurezza che i lavori riprenderanno a gennaio del 2018, ad oggi la situazione non è cambiata. Dobbiamo documentare, dobbiamo testimoniare l'assoluto abbandono della periferia di Mestre, di quelli che invece dovevano essere i nodi strategici per i servizi alla città. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!